Hai male ai piedi? Hai calli e duroni? Ti puzza nei piedi? Vieni a trovarci! Siamo a 70 km dal centro, dopo un comodo sterrato! Clinica del Callo! E i tuoi piedi saranno felici! Ciao a tutti amici, questo è un video brevissimo solo per dirvi che siamo arrivati al 20 febbraio e Youtube ha disattivato come aveva detto la monetizzazione ai canali che non hanno raggiunto i 1000 iscritti o le 4000 ore infatti come vediamo ecco qui i nuovi parametri, almeno 4000 ore di visualizzazione negli ultimi, nei precedenti 12 mesi e 1000 iscritti, per cui anch'io da oggi non avrò la pubblicità di Youtube ma come avete visto all'inizio di questo video io ho sempre i miei sponsor, sempre la mia pubblicità ecco, questo video finisce qui, era solo per dire che quando rientrerò rifarò domanda per avere di nuovo la monetizzazione ciao e al prossimo video!